E ce l'abbiamo fatta, non ho ancora realizzato bene ma direi che è andata bene. Sono tornati, sono tornati. Lo sapevamo, la voglia di cambiare l'Odi era nell'aria. Adesso sarai il sindaco anche di Gendarini? Sarò anche il sindaco anche di Ferrari, mi sa. No, a parte gli scherzi, sarò il sindaco di tutti. Io dico che abbiamo una squadra e siamo stati una squadra, cioè guarda qua, abbiamo una squadra fortissima. Sia l'Odi come coalizione ma anche il supporto di tutti i militanti della Lega Nord sono stati fondamentali. Ma guarda, io da domani si parte subito e ci si mette a lavorare per cambiare questa città veramente, una volta per tutte. Niente, qua continuano a chiamare. Grazie. Sentivamo questa vittoria, sentivamo la volontà di cambiamento da parte della città di Lodi. Dopo 25 anni, finalmente una città liberata, con tanta voglia di cambiare, con tanta voglia di crescere. Finalmente mettere al primo punto i lodigiani, una Lodi che vuole tornare ad essere una città normale. Con Sara Casanova finalmente ce l'abbiamo fatta. Grazie. Grazie. Grazie.